raga di solito prima di cominciare a registrare accendo le luci no? vedete no? ho delle luci bene ho acceso le luci come di solito e ho fatto contatto il cavo e ha preso fuoco però non siamo qua a parlare di questo perché Emilio è un piromene e vuole dare fuoco alla camera no parliamo di un'altra cosa oggi ciao signori benvenuti a un nuovo video io sono Emilio e oggi finalmente ho dato fuoco alla camera strazzato a parte raga oggi vi volevo parlare di una cosa che mi è capitata qualche settimana dietro in live voi lo sapete che come di consuetudine io ogni giovedì faccio una live bene era il 7 di giugno ero in diretta ed è successa una cosa del genere partiamolo non ha senso ciao non ha senso ci manda cicciogamer io ovviamente la live è in ritardo quindi me ne sono accorto dopo di quello che stava succedendo ecco reaction oh mio dio allora ragazzi come avete letto dal titolo sono stato vittima tra virgolette di un ride che cos'è un ride? un ride su youtube intendo praticamente ci sono persone youtuber famosi o comunque abbastanza seguiti no? che fanno queste specie di ride dove dicono ai loro iscritti di passare dal canale della vittima tra virgolette la vittima in questo caso ero io e gli dice di scrivere cose a caso e guarda e commenta la reaction della vittima allora ragazzi c'è questo youtuber abbastanza conosciuto che si chiama fieric che io fino a quel momento non sono onesto non lo conoscevo che mi ha fatto come ho detto un ride quindi ragazzi voglio fare una reaction di quello che è successo e spiegarvi come l'ho vissuta dal mio punto di vista però andremo anche a vedere la live quella di fieric dove c'è lui anche che commenta quello che vedeva lui ho già fatto la reaction in live però voglio rifarla giustamente per chi non c'era e per chi se l'è persa ma sta staccando questo? no 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 infatti non ha senso non ha senso ragazzi spammate non ha senso e parte il delirio raga ma che tra che è stato? se becco Jason subito all'inizio impazzisco stavolta come l'altra volta però è che l'altra volta è fatto proprio schifo però è la prima volta che lo usavo raga non ha senso e qui arriva tutto quello che c'era il mondo non ha senso se chiede qualcosa è cecco è raga il nostro dio è like alla live è cecco partiamolo vai arriva la reazione un bolvinello il vinello nella bottiglia di San Benedetto ma che cazzo non era vinello raga tranquilli quando cambia espressione oh mio dio that moment when cambia espressione e lì capisci cosa sta succedendo qua raga e lì capisci ciao a tutti cos'è raga ero io boh io boh bestemmie bestemmie esatto 31 persone in live cioè 31 persone quanti si è? ma c'è un uno in più davanti allora ragazzi voglio spiegarmi un attimo questa cosa io ovviamente controllo quante persone ci sono in live dal cellulare ok e ovviamente non è in tempo reale quindi questa cosa arriva tardi poi un'altra cosa che assolutamente non mi spiego allora le dirette sono leggermente in ritardo con fronte a quelle che vedete voi di circa 10-15 secondi massimo le vie dirette non so perché sarà secondo me la connessione o comunque roba del genere è in ritardo di secondo me un minuto più o meno tipo un minuto 30 secondi un minuto ed è una cosa scandalosa e quindi cioè io ne vedevo 30 e già lui ne vedeva tipo 130 cose 125 persone in live raga mi piace questo ragazzo perché questa cosa? perché si è alzato? perché mi sono alzato? perché sennò svenivo dalla sedia stavo morendo non è mai successo una roba del genere cioè per me vedere 126 persone in live è come se Ciccio Gamer che di solito ne porta cazzo ne so 30.000 ne vedesse 250.000 ragazzi iscrivetevi voglio far arrivare mille iscritti e qui c'è il delirio perché andate let's go tutti che cominciano a iscriversi c'è roba impressionante raga andate tutti 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 proprio tutti chiunque era il primo o l'ultimo sono Eric ha scritto Ciccio Gamer povero meglio grande sola ragazzi vogliamo farli fare mille iscritti o no poi ragazzi c'è non mi è mai accaduta una roba del genere e quindi io non capivo la gente che scriveva mi trollava cioè roba vorrei succhiarti la barba cosa e mi aveva scritto ci manda Ciccio Gamer ci manda Ciccio Gamer io ci stavo quasi per credere perché dicevo ma come ci manda Ciccio Gamer cosa raga ne mancano 30 dai tutti di iscriversi al miglio gamer siamo in 125 persone in live cioè questo qua raga non può succedere una roba del genere e questa è la mia canzoncina che hanno odiato tutti perché ormai la vomitavamo raga fatelo arrivare raga dai raga fatelo arrivare mille iscritti dai mille iscritti forza non so che ce la facciamo eh raga ci siamo arrivati perché è così che sono arrivato grazie Ciccio raga ne mancano 23 tutti tutti dai e poi spammeremo io ringraziamo il Ciccio a caso è Dani che mi diceva mille or ride che cazzo ne so io cos'era a Dani che cazzo ne so devo fare devo fare la storia perché vai la storia ci fa la storia ho fatto esatto ho fatto anche la storia su Instagram sono in diretta e ci sono tipo 140 persone in live salutate salumi abbondanti salumi abbondanti ah ma avevano scritto non Ciccio cecco io voglio raga è impossibile leggere tutti iscritti sono ci guarda adesso ci guarda adesso e ci stavo guardando effettivamente a me diceva mille iscritti abbiamo mille iscritti raga ma non è vero va bene va bene va bene si si cazzo non era vero però il mio cellulare diceva mille iscritti e cazzo ne so era una live tranquilla grazie a tutti grazie a tutti siete tutti magnifici meravigliosi mi stavo prendendo per il culo in una maniera impressionante io ci credevo e ci crede ci creda ancora vi giuro io mi metto a piangere cavolo vi giuro mi metto a piangere no non piangere grazie a tutti davvero come il bambino dell'altra volta grazie a tutti mi stavo per mettere a piangere davvero raga ma serio gg anche per il miglio gamer abbiamo fatto fare a detta sua mille iscritti erano quasi mille però vabbè arrotondiamo per per eccesso insomma avete capito boh io guardavo sul cellulare mi aveva detto mille iscritti quindi dicevo minchia mille iscritti in realtà non c'erano però adesso ci sono ci sono ci sono e quindi ragazzi miei è proprio in questo modo che ho raggiunto i mille iscritti e niente ragazzi quindi questo era quello che è successo durante quella famosa live del 7 luglio che ho fatto una roba come 500 visualizzazioni 140 150 persone in live ed è stato bellissimo ovviamente ho scritto anche a Fieric su Instagram per ringraziarlo per quello che avevo fatto perché va bene sono arrivati 200 iscritti in più sono arrivati a 1000 però alcuni di voi possono pensare sì ma meglio sono mai iscritti così che non ti seguono quindi non servono a niente in realtà ci sono alcune persone che sono rimaste dopo il ride a guardare la mia live ci sono attualmente alcune persone che mi seguono grazie a questo ride che mi ha fatto Fieric quindi raga sono stracontento lascio il link del suo canale qui sotto in descrizione in caso volete passare e vedere un attimo quello che porta cerco un attimo di tra virgolette nel mio piccolo ricambiargli il favore quindi come al solito vi ringrazio se non c'è un commento un mi piace iscrivetevi al canale qui sotto in descrizione e noi signori sono arrivati 1000 iscritti arriveranno anche lo speciale 1000 iscritti e per ora ci rivediamo alla prossima ciao